Associati olivicoltori, ben ritrovati alla cinquantesima edizione del periodico 17 dicembre 2021. I nostri olivi oramai sono in riposo vegetativo e lavori all'interno degli oliviti non è necessario attuarne in questo momento qua, perciò andiamo a utilizzare questo tempo a nostra disposizione per approfondire alcuni argomenti che riguardano le malattie principali dell'olivo e una di queste è la rogna dell'olivo che si sta sempre più diffondendo. Iniziamo a parlare della rogna dell'olivo, un battere pseudomonas savastanoi, ce ne accorgiamo perché forma nei nostri rami e rametti dei grossi tubercoli, si sta sempre più diffondendo nel territorio Veneto e comunque in tutta la pianura padana dove c'è olivicoltura. Le cause principali di questo aumento della malattia, con molta probabilità le condizioni climatiche, ma soprattutto la tecnica di raccolta delle olive con gli abbacchiatori o agevolatori che creano delle micro ferite, danno la possibilità a questo battere di penetrare all'interno delle nostre piante. Vive questo battere prima all'esterno da epifita sui rametti e anche sulle foglie. Nel momento in cui si creano queste piccole ferite trova la possibilità di penetrare all'interno degli olivi e che va a causare queste rogne o questi tumori sui nostri rami. Non è solo un aspetto estetico perché questi tumori limitano la normale circolazione della linfa all'interno della pianta, diminuendo il vigore vegetativo della pianta e quindi una minore produzione. Cosa abbiamo a disposizione per difenderci contro questa batteriosi? Abbiamo i prodotti a base di rame, prodotti rameici che però non sono sufficienti e ci siamo accorti in questi anni. Sul mercato sono comparsi anche altri tipi di prodotti con degli organismi antagonisti e vi abbiamo riportato un approfondimento di questi sul nostro periodico, riportandovi anche i nomi commerciali nel caso di eventuali vostri acquisti. Un approfondimento che andremo ancora ad ampliare in altri periodici dell'anno prossimo. Vi abbiamo già inviato un primo servizio sulla concimazione effettuata come l'abbiamo chiamata noi in aula. Seguirà all'inizio della settimana prossima quella in campo. E adesso un buon risentirci alla settimana prossima. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia Grazie a tutti. Grazie a tutti.